Dove siamo? Siamo a Padova e stiamo andando a Longarone, che domani ci sarà la commemorazione del Vaillant, della terribile strage che è venuta in Vaillant negli anni Sessanta. Stiamo andando a commemorare e ci sono un po' i deputati, domani ne arriveranno altri e quindi stiamo aspettando che parte il treno per andare in valle.